La chirurgia estetica o meglio la chirurgia plastica tra pregiudizi, luoghi comuni, necessità e comunque pur sempre una scienza nella medicina. Ne parliamo oggi col dottor Stefano Spitoni in chirurgia plastica e ricostruttiva. Grazie e buongiorno e benvenuto a Cronache Fermane, dottore. Lei a microfoni spenti, prima mi correggeva perché io parlavo all'inizio di chirurgia estetica, lei mi ha subito stoppato dicendo no, la chirurgia estetica non esiste, esiste la chirurgia plastica. Questo è un primo luogo comune da sfattare. La chirurgia plastica ricostruttiva di fatto è una branca a sé. dalla chirurgia plastica, si chiama chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, perché fondamentalmente un tempo nasceva dove finiva la demolitiva, quindi c'era la chirurgia demolitiva e c'era la chirurgia ricostruttiva. Poi da questa praticamente branca è nata anche quella che poi definiamo, è definita in America la cosmetic surgery che sarebbe la chirurgia estetica, però di fatto come specialità la chirurgia estetica non esiste. Quindi chiunque fa questo tipo di chirurgia o è un chirurgo generale che si è dedicato alla chirurgia estetica oppure è un chirurgo plastico ricostruttivo con tanto di specialità che si dedica alla chirurgia cosmetica o chirurgia estetica e questo è importante. Dottore, partiamo subito perché siamo già entrati nel vivo dei luoghi comuni. La sua specializzazione viaggia su un doppio binario, quello della medicina vera e propria, quindi chirurgia plastica e ricostruttiva, è quello più legato all'estetica, all'estetica e da qui magari la deriva terminologica in chirurgia estetica. Come vive, come vivete voi medici questo doppio binario e anche questo conflitto con luoghi comuni, pregiudizi, perché spesso e volentieri siete al centro di critiche, di critiche anche etiche, sull'essere e sull'apparire. Quali sono i luoghi comuni e i pregiudizi con i quali voi vi confrontate tutti i giorni, dottore? Difficilmente le critiche arrivano là dove c'è una vera chirurgia ricostruttiva, ossia un esito d'austione, ostionati gravi, un tumore di una mammella, quindi una ricostruzione di una mammella stessa, oppure altri tipi di chirurgia, anche ricostruttiva pediatrica, là dove i bambini malformati vengono curati. Lì normalmente non siamo soggetti a nessun tipo di critica perché non fa notizia. Fa più notizia invece quello che succede nell'ambito della chirurgia estetica, anche se anche qui la va presa come una disciplina molto seria, perché la prima verità è quella che non bisognerebbe nuocere a nessuno. Soprattutto là quando andiamo a esercitare una chirurgia su persone assolutamente sane, quantomeno sane di corpo, qualche volta poco sane di testa, e lì alla prima visita sarebbe opportuno considerare se i pazienti che ci sono davanti possono raggiungere un certo tipo di risultato, altrimenti con l'esperienza si cerca di evitarli. Questo proprio per evitare che poi nascano dei contenziosi per aver fatto qualcosa che non era necessario. Però devo dire la verità che c'è un risvolto psicologico molto positivo anche nella chirurgia estetica stessa. Sia una donna o un uomo con problemi, diciamo, francamente importanti, come ad esempio le orecchie a sventola, oppure dei nasi torti, nasi deviati, dei brutti nasi perché non, oppure un seno troppo piccolo, infantile, o un seno troppo grande da ridurre e quant'altro, sanno che con questo tipo di chirurgia possono migliorare quando non guarire del tutto e questo li porta a apparire socialmente più sicuri. Quindi abbiamo un risvolto psicologico anche nella chirurgia estetica. Ovviamente poi i messaggi dei mass media sono terrificanti, nel senso che qualche volta vediamo delle cose aberranti, ma ormai abbiamo fatto il carlatutto, le cose aberranti non sono soltanto nella chirurgia estetica, stanno nel modo di vivere, nel modo di presentarsi, nel modo di fare politica, nel modo di fare anche palestra. Qualche volta vedo delle cose pazzesche, anche riferite alle donne, questa volersi necessariamente portare alla stessa stregua del maschio, quindi subire queste virilizzazioni che sono assurde, perché la donna comunque è donna e tali dovrebbe rimanere. Però insomma qui poi sconfiniamo in un fatto assolutamente personale. No, però dottore, bellezza e benessere, questa correlazione, quanto è viva nella sua e nella vostra specializzazione, benessere inteso anche come benessere di uno status, benessere emotivo, benessere psicologico. 35 anni fa, quando ho cominciato a fare questo mestiere, questa professione, che peraltro è stata una bellissima avventura, quando operavo una donna, nel caso specifico, la prima domanda che mi faceva era ma io quando posso ritornare a fare le faccende domestiche? Oggi siamo ben lontani, insomma, la prima cosa che mi chiedono è quando possono tornare in palestra. Sì, per storia proprio. Eppure qualcuno che faccia le faccende domestiche farà, insomma. Però questo cosa vuol dire? Che negli anni, in questi 35 anni, sicuramente c'è stata una modernizzazione in tutto. E come diceva un vecchio proverbio, mensa sana in corpore sano, e vedo molte persone, quasi il 90% dei pazienti che io conosco, frequentano abitualmente le palestre. E questo va benissimo, perché l'importante è piacersi. Molte volte, ormai ho imparato a star sito, mi è successo di vedere una paziente entrare nel mio ambulatorio con un difetto magari estetico evidente e poi pensare, poi vedere che magari era venuta per un'inezia o per una cosa a cui non l'avrei mai pensato. Cosa vuol dire? Che ci sono persone che si vedono in una maniera e localizzano il loro difetto là dove magari tu, che poi sei un professionista della materia, non lo vedresti mai. E paradossalmente questo è appannaggio anche delle donne belle, che sono le più insicure a fronte di altri che magari hanno meno bellezza. Quindi è una materia strana, però sicuramente la chirurgia plastica, la chirurgia estetica va d'accordo con il benessere. Nel senso che chi affronta un certo tipo di intervento è qualcuno che si ama, ama stare bene, maschi compresi, e quindi il più devote fa una sana alimentazione, fa movimento, si piace di più e si sente più sicuro. Dottore, al di là del fatto che ognuno è libero di decidere e di operare sul proprio corpo o come meglio crede, insomma, la discrezione di ognuno di noi, quali sono gli errori però da evitare? A partire dallo specchio, quindi dall'evitare l'esasperazione di un difetto che per voi specialisti è minimo o non è addirittura un difetto? E poi addirittura quando poi magari si alza la cornetta oppure si cerca in rete qualcuno che dovrà essere chiamato a mettere mano sul naso, sull'orecchio di turno. Ma una volta c'è una pergine gialla, è già un paziente che arrivava con le pagine gialla e era di per sé già potenzialmente pericoloso. Oggi c'è internet e internet sicuramente ha aperto una faccia sul mondo e chiunque di noi per una qualsiasi cosa si confronta con la rete informatica. Però è vero che l'ultima parola aspetta lo specialista. I pazienti più pericolosi sono quelli che non stanno sulla stessa lunghezza d'onda dello specialista. Se lo specialista è serio e sa che non può accontentare una paziente o arrivare là dove lei pensa perché c'è un punto di partenza e un punto di arrivo in quel caso sarebbe opportuno non operare mai perché si eliminano tanti dispiaceri e a volte anche dei contenziosi importanti. oppure bisogna cercare di guidare la paziente o il paziente facendogli capire che quello che lei vede non è logico o che comunque rientra in una situazione di normalità o che comunque non ha un'indicazione chirurgica. Allora avremo più amici che nemici e dormiremo meglio la notte. Dottore siamo già arrivati all'interno dello studio medico però partiamo da casa quali sono gli step da seguire si mette dalla parte del paziente o del potenziale paziente nel momento in cui una persona decide di approcciarsi con la chirurgia plastica barra estetica quali step deve necessariamente seguire per non incorrere in spiacevoli sorprese? Allora posso dire che ci sono delle società di riferimento che sono l'AICPRE e l'AICPRE che sono le società dove si registrano tutti i soci aderenti e soci ordinari della nostra specialità però poi anche qui direi una cosa inesatta perché in tanti anni mi sono reso conto che la cosa più importante è la reputazione che il professionista si fa io vado a comprare la carne laddove adesso mi è uscito non ho detto carne so che quella è una carne di qualità è una carne buona perché altri amici l'hanno comprata e mi hanno detto che è buona è così come qualsiasi altro prodotto e allora l'approccio è quello di sapere che magari qualcuna si è già operata un'amica si è trovata bene diciamo che fondamentalmente è quello il passaparola il passaparola poi è ovvio che anch'io so che c'è una massa di persone che non solo sono indecise ma non sanno effettivamente dove o come orientarsi beh allora però a quel punto è semplice ci sono i siti ecco in questo caso viene viene proprio internet in aiuto ci sono i siti dell'AICP e dell'AICP dove ci sono registrati tutti i chirurghi plastici e a quel punto si può vedere per regione lo specialista d'appartenenza siamo a Palmatea lei è qui a Palmatea una struttura da anni eccellenza anche nella chirurgia plastica che cosa offre Palmatea? dunque Palmatea offre tutto quello che può offrire è una clinica qualsiasi perché nella nostra chirurgia è successo questo in tutti questi anni si è americanizzata quando tanti anni fa frequentavo anche io gli Stati Uniti noi eravamo abituati a fare i ricoveri in clinica e io invece andavo negli Stati Uniti e vedevo questi colleghi egregi di riferimento che operavano in day surgery e mi dicevo ma come è possibile che questi operano in day surgery? beh ci siamo arrivati pure noi ed è molto semplice perché i farmaci sono cambiati perché le anestesie che si fanno per fare gli interventi si sommatizzano quasi immediatamente quindi il paziente è operato la mattina alle 9 alle 4 del pomeriggio è già in grado di andare via gli anestesisti sono rianimatori sono gli stessi anestesisti che ritroviamo negli ospedali o nelle cliniche convenzionate quindi da questo punto di vista Parmatea può offrire molto tant'è che tutti gli interventi diciamo anche i più invasivi noi li svolgiamo a Parmatea ecco poi può succedere che magari ci siano degli interventi dove richiedano un ricovero notturno noi per ora non siamo riusciti ad ancora effettuare questo però abbiamo una forma di convenzione per la quale abbiamo il paziente può essere ricoverato in una struttura vicino e seguito dallo stesso chirurgo e dai medici che si sono presi curi di lui Come è evoluta la chirurgia plastica ricostruttiva sia a livello terapeutico sia a livello tecnologico insomma è una scienza in continua evoluzione però è bene che lo specialista faccia il punto perché poi evitiamo così anche le derive e le promesse che magari girano in rete piuttosto che nei strumenti di comunicazione non convenzionali diciamo così Allora diciamo che grandi evoluzioni da un punto di vista tecnico dall'avvento, dalla riposizione in poi non ce ne sono stati però tanti piccoli sì nel senso ad esempio è diventata meno invasiva una volta era più invasiva ci sono degli interventi che sono diventati molto meno invasivi ma perché ad esempio la mammella si fa con l'ausilio delle fibre ottiche perché le protesizzazioni di oggi chiaramente per quelli che vogliono aumentare il volume della mammella non sono quelle di vent'anni fa quindi nei materiali sicuramente ci sono state delle grosse innovazioni e soprattutto però nelle tecniche operatorie che in qualche modo sono diventate meno invasive di prima prima un intervento di demolizione della mammella e di ricostruzione ad esempio era visto come un intervento importante un intervento oggi un intervento con le tecniche attuali facilmente ospedabili si può dimettere facilmente nella stessa giornata e in questo abbiamo cercato di togliere gli spiccoli vivi di questo genere di chirurgia anche nel dolore ad esempio post-operatorio che è quasi assente in tutti gli interventi la velocizzazione della chirurgia plastica e dall'altra parte una sempre più vasta gamma di potenziali pazienti ossia oggigiorno anche gli uomini fanno ricorso alla chirurgia plastica si riesce a contemperare la rapidità della scienza e di riflesso della tecnologia con le richieste che immagino saranno le più diversificate possibili le più disparate ma insomma gli uomini si rivolgono a noi per poche cose che sono sempre quelle d'altra parte devo dire che è molto più facile combattere con le donne che con gli uomini infatti Dio voglia che ci siano sempre donne e poi gli uomini perché l'uomo è noioso e poi c'ha tanto da fare e poi insomma non è un bravo paziente da questo punto di vista però ecco l'uomo ad esempio al di là di quello che può essere è un problema nasale è un problema dovuto anche a traumi subiti è un problema di orecchia sventola che supporta male è un problema di ginecomastia che sarebbe l'aumento del grasso mammario e la famosa pancetta con i fianchi diciamo che insomma la patologia è tutta lì beh la donna c'ha un range molto più ampio c'ha un range molto più ampio anche perché dove finisce la chirurgia comincia la medicina estetica quindi tutto quello che riguarda i trattamenti i famosi filler labbra, zigome, botolino e quant'altro tutto quello che oggi viene quasi messo al bando e che invece si è fatto con una certa regola d'arte è molto gradevole perché tutte le volte le donne mi dicono ma ho visto vedo delle cose in televisione terrificanti per strada terrificanti io rispondo sempre alla stessa maniera voi vedete cose terrificanti perché sono fatte male ma quando sono fatte bene non vi accorgete e questo vale anche per gli interventi questa è veramente una regola d'oro quando tu fai un bel intervento quando la paziente torna e mi dice ma sta d'accordo dottore però non si è accorto nessuno e gli dico guarda è fatto bene capito? qual è quella domanda che fa imbestialire il dottor Spitoni ovviamente in qualità di medico e quella che invece il dottor Spitoni si aspetta in qualità di medico dal paziente ossia qual è diciamo l'intervento che il dottor Spitoni non ama particolarmente perché non lo ritiene opportuno e quello che invece secondo lei dottore andrebbe effettuato il primo possibile perché ne va della salute del paziente no non ci sono interventi che non mi piacciono io amo tutta la chirurgia che faccio e non ho mai messo al bando nessun tipo di intervento anche se ce ne sono alcuni che sono più noiosi degli altri il risultato è fondamentale anche perché quando raggiungi il risultato vedi la felicità negli occhi di chi lo porta e tu ti senti molto gratificato da questo punto di vista le cose che mi fanno un po' imbestialire quando i pazienti vengono pensando di sapere tutto perché un'amica mi ha detto e un'amica mi ha detto è terrificante oppure ho letto su internet e questo succede spesso perché se leggi su internet poi è inutile venersi a visitare dal chirurgo basati su quello che ti dice internet però ecco non ci sono interventi che mi trovano sono tutti belli gli interventi devono avere un'indicazione precisa c'è tanta gente che pensa che vuole di farsi le palpebre non è così o c'è tanta gente che pensa di risolvere con una riposizione un problema che invece consiste in un grosso dimagramento quindi non è così ma a volte convincerli diventa difficile e te li ritrovi quotidianamente non dico quotidianamente ma insomma mensilmente o trimestralmente ha fatto la stessa domanda però io credo che sia molto meglio avere un consiglio o una disillusione che invece un intervento non è servito a niente grazie grazie dottor Stefano Spitoni specialista chirurgo plastico ed estetico ed estetico quindi la prima cosa da quello che ho capito è prima dello specchio insomma ascoltiamo un po' di più magari lo specialista ma soprattutto un'altra cosa a volte ci specchiamo con l'anima ci sono dei giorni che sono belli e solari ci sono dei giorni che sono brutti ma non vuol dire che siamo cambiati